Diciamo che non si poteva iniziare meglio questo 2023, un saluto a tutti gli amici del Corner Sampdoriano, eccoci qui con l'analisi della partita, davvero fa veramente piacere, fa veramente piacere vedere una squadra che finalmente lotta, ma andiamo con l'ordine. Prima di iniziare, come al solito, pollicione in su, iscrivetevi perché siamo quasi a 2000, forse quando uscirà questo video saremo già a 2000, ma comunque iscrivetevi e ogni mercoledì sera live su Twitch, quindi seguiteci per tutti gli aggiornamenti. E adesso andiamo al dunque. 2-1 per noi, che partita, che partita, andiamo a vedere come scendono in campo le due squadre, con un sassuolo che sulla carta ha molta più qualità e diciamo che specialmente nella seconda parte della partita, nel secondo tempo, questo si è visto. Un sassuolo che scende con questo 4-3-3, come al solito, anche loro avevano delle defezioni, anche questo bisogna dirlo per dovere di cronaca, però dall'altra parte c'era una Samp che 3-4-1-2, non lo so, perché alla fine era un Gabbiadini che girava molto attorno a Sam Lammers, all'esordio oggi con la maglia blu cerchiata, quindi forse un 4-3-4-2-1, scusate. Quindi diciamo che anche questa era un'incognita per quanto riguarda il sassuolo. Secondo me l'ha impreparata molto bene Stankovic, l'ha preparata bene sotto il punto di vista mentale, prima che tattico, perché davvero la Samp è arrivata prima su quasi ogni contrasto, la Samp aveva testa, ragionava, ed è una cosa che non si è vista spesso nella prima parte di stagione, quindi questo ci fa ben sperare. Diciamo che è una Samp più compatta, è una Samp un po' più ordinata, molto più attenta, come detto, molto bene, molto 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 bene. Le qualità tecniche sono quelle, i limiti ci sono, però andiamo a vedere nel complesso ciò che è stato, specialmente il primo tempo, cioè una Samp forte. Una Samp forte perché è squadra, una Samp forte perché va forte su ogni contrasto e questo farà la differenza. Se la Samp dovesse continuare a giocare così, come a questo primo tempo, e ricordiamo, senza Djuricic, senza Sabiri, che sono due giocatori fondamentali a centro campo, c'è stata comunque una buona solidità nel reparto appunto del centro campo. Arriva questo gol di Gabbiadini, una rovesciata molto 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 difficile, perché il pallone è molto vicino, bisogna avere dei riflessi, bisogna muoversi in velocità e impattare bene il pallone. Lui l'ha fatto, quindi 1-0 spettacolare. Nulla da dire a Manolo Gabbiadini, che oggi è il miglior in campo, indiscusso. Lota solo di pallone e non fa l'attaccante. Lui gioca ovunque, perché sui cross ci arriva sempre lui, porta palla, fa sellire la squadra, copre il pallone, tutto, fa tutto. Quindi Manolo Gabbiadini oggi spettacolare. Spettacolare anche Brent Nuitic, perché rigore va benissimo, va benissimo. Perché quello è un fallo che viene fatto per non fare girare l'attaccante, forse è l'unica nota negativa della partita di Nuitic. Perché chapeau, ha fatto un qualcosa di straordinario, decisivo, su ogni contrasto. Spettacolare. Veramente, io l'avevo detto nel video, ci aspettiamo un giocatore forte ed esperto. Lui è questo. Quindi, molto bene, molto bene, grandissimo Brambo. Iniziano subito questi soprannomi giustissimi. Lui ci deve portare verso, ci deve portare verso la salvezza. E poi arriva questo missile di Tommaso Gello. Un Tommaso Gello, anche lui in ripresa. Forse sta ritornando quello dei vecchi tempi, lo spero, per la nostra Samp. Un missile, incrocia, colpendo col collo. Nuda da dire. Un altro gol bellissimo. E lì nessuno di noi ci credeva. La partita di oggi è molto importante perché ci ha detto anche una cosa. Che la Samp forse ha imparato a soffrire. Perché sei 2-0. Due reti in più, quindi. Due reti di vantaggio a Reggio Emilia. Contro un Sassuolo che nel primo tempo sembrava mollo. Possiamo dirlo. Una squadra forse è rimasta in vacanza. Possiamo fare questo, usare questo termine. Nel secondo tempo però sono entrati gli giocatori. Da noi entrava, con tutto rispetto, Murro e Montevago. Dall'altra parte, già la situazione cambiava. Quindi, la forza oggi è stata quella di rimanere uniti anche nelle difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo visto appunto le qualità del Sassuolo venire fuori. Una Samp che si è abbassata di più. Una Samp che si accontentava di questo risultato. Giustamente, assolutamente, giustamente. Direi, nota appunto molto positiva. Non conoscevamo una Samp che sapesse tenere il vantaggio. Anche perché questa stagione, parliamoci chiaro. Non siamo quasi quasi andati in vantaggio. Quindi, era una Samp un po' più un'incognita. Non la conoscevamo questa Samp. È una Samp che ha sofferto tantissimo. Ha saputo soffrire, come detto prima. Però, a me va benissimo. Perché ti prendi tre punti che sono fondamentali. In un campo comunque non facile. Contro un'avversaria di cui abbiamo già parlato prima. Che ha un valore tecnico molto superiore al tuo. E adesso arrivano i momenti più decisivi. Perché ti devi riconfermare. Con il Napoli non ti chiedo tre punti, assolutamente. Ma voglio una prestazione convincente come quella del primo tempo di oggi. Voglio una Samp Gagliarda. Voglio una Samp che lotta su ogni pallone, come abbiamo visto oggi. E va benissimo. Andiamo a vedere nei singoli. Chi è piaciuto di più, chi è piaciuto di meno. Prima volevo partire analizzando l'Untic, che avevo già analizzato prima. Quindi andiamo ad analizzare l'Hammers. Che, secondo me, si sta inserendo bene. È un giocatore, lo sappiamo, non è un goleador di razza proprio. Però, se hai già visto qualche scena di intesa con Barolo Gabbiadini, forse qualche movimento da rivedere. L'imbucata sicuramente da rivedere. Era molte volte in fuorigioco. Però, ha fatto vedere delle belle giocate. Quindi, teniamo d'occhio questo Sam Lammers. Poi, onnipotente Rincon. Giocatore strepitoso. Tra i peggiori troviamo... Pareri mio. Voi dite quello che volete. Valerio Verre, perché doveva essere 3-0 quel contropiede nel secondo tempo. Se hai un trequartista che sa fare le cose come si deve, quello è 3-0. Peccato. Forse, proprio da quell'errore nasce l'azione del 2-1. L'azione del rigore, ma non ne sono sicuro. Quindi, Valerio Verre... Sempre un po'... Anche lui, un po' mollo. È brutto da dire, vale. Però, bisogna cercare di aumentare il ritmo. Cercare di lottare su ogni pallone. È un giocatore che, tecnicamente, a me piace da morire. Però, cerca di trasformare la forza che hai nella tecnica, anche in forza agonistica. Quindi, Verre, giocatore che deve assolutamente rinascere. Se no, mi dispiace, ma dal mercato qualcosina si deve fare. Non si è sentita la mancanza di Ciccio Caputo, grazie ovviamente a Manolo Gabbiadini. Quindi, questa piccola parentesi del nostro Filippo, che sicuramente stava guardando questo video, visto che ho già commentato l'altro. Quindi, Filippo, anche oggi non si è sentita la mancanza di Caputo. Grande Ciccio, che oggi si trasferisce ad Empoli. Ti vi diamo un abbraccio, Ciccio. Per me sarei sempre nel cuore, però qua hai fatto veramente male. L'altro peggiore, ahimè, ahimè, quello che doveva essere il Capitan futuro, Bartos. Si vede che sta per partire, si vede che ha la testa tra le nuvole. Male, molto male Bartos. Secondo me si poteva concludere meglio la nostra avventura. Questa, secondo me, è l'ultima. Se non è l'ultima, è la penultima. Quindi, Bartos, grazie di tutto. Ma oggi non c'eri proprio con la testa. Poi, che dire, Autero ci ha fatto cagare addosso tutti, ma nel complesso è stata una bella prestazione. Gassu ha chiamato in casa poche volte. Bellissima la parata su Traoré, se non ricordo male. Quella davvero decisiva, quando Dazon ha smesso di funzionare a tutti. 40 euro dalla prossima stagione. Quindi grande Dazon, grandissimo. Con una connessione che io non si vede niente. Non si vede niente. A scatti. Pixelato. Vabbè. Quindi, grazie Dazon. Che dire, poi abbiamo visto, come abbiamo detto al solito, un Viera un pochino più cattivo. Sempre con limiti tecnici, ma un pochino più cattivo. Leris, benino. Benino. Anche lui in prestazione da 6-6,5. Spinge, non molla mai. Montevago non mi è piaciuto molto oggi, ma avremo modo di rivederlo, secondo me. È un ragazzo che ha tante qualità. E poi, ragazzi, che dire. Speriamo di continuare così. Perché abbiamo visto, appunto, una Samp in crescita. Adesso arriva il Napoli. Una partita davvero molto complicata. I ragazzi hanno bisogno di noi. Quindi, tutti allo stadio. Domenica le 18, se non erano. Quindi, noi di Corner, ovviamente, ci saremo. E salutiamo Crypto.com, come al solito, per l'esperienza che ci ha regalato a Reggio Emilia. Davvero spettacolare. Abbiamo sfruttato anche il mito di Crypto che ci manda in tribuna. Ogni volta perdiamo sfiga. Questa volta, no. Quindi, molto, molto bene. Quindi, vi ricordiamo di seguirci su Instagram. Corner, trattino, basso, Samp Doriano. Pollicioni in su, se vi è piaciuto. Iscrivetemi. Manca poco i 2000. Da Mattia è tutto. Da Corner è tutto. Sempre Forza Samp.